buongiorno buongiorno oggi è giovedì 25 maggio rassegna stampa in breve di video 33 nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione cielo sereno su gran parte del territorio altoatesino ancora qualche nuvola in transito soprattutto lungo la cresta di confine e poi spazio al sole che ci accompagnerà per tutta questa giornata in regia abbiamo massimo moro un'immagine per farci capire cosa sta accadendo intorno alle 6 e 30 di questa mattina nella conca che ospita la città di merano temperature minime e massime in linea con gli ultimi giorni 28 gradi nelle ore più calde nel capoluogo altoatesino andiamo a vedere quali sono le aperture dei quotidiani locali e poi come sempre spazio anche alla stampa a livello nazionale ed internazionale l'alto adige così come il corriere dell'alto adige apre con l'assemblea dell'unione commercio nei negozi e larme furti commercianti sottotiro troppe rapine serve più sicurezza il corriere dell'alto adige amort dice il commercio deve cambiare passo l'assemblea provinciale delilia le nuove strategie la cronaca linguatresca con il dolomite nel tema quello della sicurezza a livello provinciale dopo l'attacco di manchester parla il questore di bolzano racca che evidenzia quali sono i rischi quali sono le contromisure la cronaca ancora in linguatresca cura del quotidiano tagestzeitung un gioco pericolosissimo su internet che coinvolgerebbe anche alcuni ragazzini di caldaro un gioco che porterebbe addirittura l'istigazione al suicidio preoccupazione da parte degli insegnanti e dei genitori il quotidiano il settimanale linguatresca ff la riorganizzazione dei vertici degli uffici provinciali le nuove proposte da parte della giunta a ottimizzare le risorse questo l'obiettivo vi proponiamo anche la cronaca che arriva dalla diocesi di bolzano e bressanone con il segno protagonista è consol magno direttore dell'osservatorio astronomico del vaticano che è stato ospite dell'osservatorio della valdega a bolzano corriere della sera per le notizie a livello nazionale e internazionale trump chiama la nato il presidente americano rilancia la lotta al terrorismo nella sua visita a roma il sole 24 ore imprese forti fanno un paese forte sono le parole di boccia vi ricordo come sempre gli appuntamenti da non perdere in provincia di bolzano ad iniziare da oggi il giro d'italia che fa tappa ad ortisei il 29 di maggio l'assemblea provinciale degli albergatori a ghefao al walter house il 3 di giugno l'hortler bike marathon il 9 di giugno la festa per i 30 anni della raccolta del latte siamo in val sarentino l'iniziativa porta la firma della mila il 9 di giugno la cavalcata di oswald von wolkenstein a siusi è tutto vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di video 33 iscriviti al canale viaggio ben Grazie a tutti.